Una notizia importante è quella dell'ingresso ufficiale del Wushu, l'arte marziale per eccellenza completa e antesignana di tutte le discipline oggi conosciute come sport ufficiale alle Olimpiadi di Dakar del 22 ottobre al 9 novembre 2022. Confermo ufficializzata dal Comitato Olimpico Internazionale. Molto importante dunque il nuovo assetto organizzativo nazionale, regione per regione, che si occuperà di avviare programmi, promuovere la strepitosa disciplina e qualificare e graduare atleti, insegnanti, giudici, presidenti giuria e ufficiali di gala. A tal proposito si registra per la Calabria la nomina delegato responsabile regionale delle FIGUC, l'unica federazione ufficiale riconosciuta dal CONI, quale DSA del noto maestro dottor Giuseppe Cavallo, direttore tecnico dell'Accademia, da lui fondata con sedi operative a Caolonia Marina Polista nel Siderno. Proprio in questa località e precisamente in Via dei Tigli, presso la casa dei giovani maestri del sogno, divenuta tale come bene confiscato, nascerà il Centro Tecnico Regionale Federale. La nomina a Giuseppe Cavallo è pervenuta dal Presidente Nazionale Avvocato Vincenzo Drago, dirigente e professionista di elevatissimo livello internazionale e dal segretario generale il dottor Sebastiano Ettore Spoto, tra l'altro recentemente nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Il maestro Cavallo, specialista internazionale di difesa personale e già responsabile nazionale federale del settore addestramento forze armate, forze lord e nucleo antiterrorismo per anni. Infivuc ha condotto i propri atleti alla conquista del campionato italiano di combattimento ed ha ricoperto ruoli dirigenziali.